Ad Avenza, di Carrara, in piazza Finelli c'è Mazzini dietro di noi, ecco cosa la lega a questo luogo? Noi siamo in questo luogo perché qua sono cresciuto, nato e cresciuto, questo è il luogo simbolo delle periferie della Toscana abbandonate. Il Movimento 5 Stelle sarà la novità del prossimo Consiglio regionale. Il candidato portavoce dei cittadini, Giacomo Giannarelli, sogna il ribaltone come a Livorno, ma con i piedi per terra promette opposizione costruttiva al PD di Rosse. La collaborazione con il PD? Ogni proposta buona che viene da qualunque forza politica noi la votiamo. Perché quando il Movimento 5 Stelle fa una buona proposta non viene mai votata? Qual è la sua idea per questo territorio? Occupazione al primo posto, ci vuole una visione strategica diversa, turismo, piano del riciclo, sostegno alle piccole e medie imprese, filiera corta del marmo, questo marmo che deve dare ricchezza qua al territorio. Al mercato di Avenza Giannarelli incrocia gli stati d'animo di un'Italia in bilico tra crisi e fiducia. Non si può andare avanti così, pensione che aumentino le pensioni, che facciano star meglio i pensionati. Secondo lei è giusto che un consigliere regionale, un assessore, un governatore prenda 12-13 mila euro al mese? No, non è giusto assolutamente. Le ha viste le locandine, Buffon lascia la Carrera e si dice ma hanno lasciato solo. Il messaggio è forte, un cittadino di Carrera Buffon, conosciuto nel mondo, lancia questo messaggio. Evidentemente la politica non ha saputo ascoltare le esigenze di un imprenditore che voleva investire sulla squadra di calcio locale. Andiamo a capire perché. Lei è un consulente energetico, che vuol dire? Che cosa fa l'energy manager? Indica una strada per abbattere la domanda energetica e produrre energia da fonti rinnovabili. Oggi in Toscana sono previste 70 nuove centrali a biomasse. Noi diciamo no, sì alla produzione di energia rinnovabile da piccoli impianti distribuiti per tutto il territorio. Sono due visioni diverse. Lo slogan della campagna elettorale, il futuro migliore, è dedicato alla sua provincia, Massa Carrara, impoverita da un lungo declino industriale. Che futuro immagina per le regioni, dopo che Grillo dice basta anche con le regioni? Ma se le regioni devono essere un palazzo chiuso, il fatto di un sistema clientelare non le vogliamo. Noi vogliamo una regione che sia l'esempio del decentramento amministrativo, che porti la voce delle comunità.